Ciao lettrice e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany e oggi è arrivato il momento che nessuno aspettava però è giusto secondo me fare questo tipo di video e soprattutto su questo canale allora oggi volevo farvi una specie di guida su Nevernight, so che non è necessaria per moltissimi di voi so che c'è chi è molto innamorato della serie e l'ha già letto, c'è chi non ne vuole più sentire parlare e quindi proprio per unire un po' queste due anime, secondo me è giusto fare un po' il punto quindi un po' una guida a Nevernight, che cos'è, a chi può interessare e soprattutto per chi può essere il libro giusto invece per chi invece è meglio leggere ben altro, perché secondo me è un titolo molto interessante è una serie che a me è piaciuta molto e quindi magari posso darvi qualche istruzione su come approcciarvi a questo mondo tra l'altro per girare questo video mi sono appena inimicata il mio gatto perché per fare una foto mi ha odiata e quindi insomma vabbè, ok, niente, direi che non chiamiamo la protezione animali perché gli voglio bene e il mio Mr. Kindly Poopy, vabbè povera stella, direi di iniziare a smettere di dire cagate partiamo con una guida pratica perché secondo me ci sono cose da dire prima di approcciarsi a questo libro che voi lo odiate già perché ne avete sentito parlare molto o che voi non ne abbiate mai sentito parlare oppure se voi già siete amanti della serie e l'avete già letto perché secondo me sono imprescindibili per parlare di questa serie innanzitutto, come già saprete, Nevernight, la trilogia, si compone di tre libri anzi, la trilogia degli accadimenti di Illuminotte, devo diventare molto brava il primo è Mai Dimenticare, ovvero Nevernight il secondo è I Grandi Giochi, ovvero God's Grave e il terzo è Alba Oscura, cioè Dark Dawn l'edizione italiana è pazzesca, è qualcosa di incredibile comunque, venendo a noi, che cosa c'è da dire prima ancora di approcciarsi alla sua lettura? ci sono dei trigger warning giganteschi da fare questa è una serie che non è per ragazzi in nessuna maniera non è una serie scritta per ragazzi qui è chiaro che ad alcuni può piacere io immagino la me quindicenne che impazzisce come poche cose al mondo per queste cose ma devo dire che io non sono la quindicenne tipo cioè non sono, non ero la quindicenne tipo ci sono scene di violenza super esplicita in maniera molto molto gratuita alle volte cioè gratuita nel senso che non si risparmia mai Jay Kristoff quindi assistiamo a combattimenti atroci, torture, sanguinamenti vari ce n'è di cotte e di crude quindi se voi avete un po' lo stomaco debole non fa per voi e vi dico solo che anche io che sono abituata a tollerare dei livelli di violenza veramente altissimi e anche visivamente, cinematograficamente sono abituata dello splatter incredibile in una scena di Dark Dawn ho avuto un attimo di eh, diciamo che non è proprio per tutti quindi se a voi non piace la violenza se a voi non piace proprio questo candidamente metterlo così esplicito non è una serie che fa per voi secondo trigger warning da fare è un libro che contiene tantissimo, tantissimo linguaggio volgare se voi al primo vaffanculo vi triggerate al secondo morite perché Jay Kristoff parla come uno scaricatore di porto che è uno dei motivi per cui io amo la serie perché mi ci rivedo, io parlo come una fogna quindi so che su YouTube non sembra perché cerco sempre di trattenermi ma se voi odiate un linguaggio molto volgare questo libro non riuscirete a superarlo è un libro che non si risparmia assolutamente un linguaggio estremamente volgare e su questa cosa poi lo ricoprerò più tardi però è il secondo trigger warning, red flag da fare terzo e l'ultimo ci sono presenti numerose scene di sesso in maniera cruda ed esplicita e non sempre piacevole quindi a meno che voi non riusciate a superare questa cosa non è una serie che fa per voi e queste erano le tre premesse da fare che secondo me sono imprescindibili prima di parlare di questo libro se sentite una recensione dove questi tre punti non vengono nominati o vengono messi in secondo piano c'è un problema perché non si può parlare di Nevernight senza parlare di violenza a livelli molto alti poi secondo me per dire se siete abituati a Martin ecco ci siamo vicino però qua siamo spesso molto più espliciti perché è più frequente l'apparizione di certe scene pippone iniziale finito andiamo a parlare un po' di Nevernight e nello specifico mi tengo anche una piccola parte finale per parlarvi di Dark Dawn perché ho già fatto due recensioni una dedicata a Nevernight quindi a mai dimenticare e una dedicata a God's Grave nei wrap up di dicembre e di gennaio dell'anno scorso che magari vi linko giù nell'info box ma veniamo a noi ora che ho completato questa serie penso di averne una visione un po' più ampia e che può aiutare un attimo a vedere le cose in maniera più chiara innanzitutto parliamo del contesto quando parliamo di tutta la trilogia il contesto è il seguente immaginatevi se l'impero romano non fosse mai esistito ovvero quando Cesare stava per prendere il potere tutti i suoi tentativi fossero falliti e quindi la Repubblica Romana si è protratta nei secoli e infatti noi ci troviamo in un ambiente più rinascimentale ma con una struttura gerarchica di tipo romano quindi già capite che questo è già uno sforzo contestualizzare questo tipo di mondo secondo me è un setting molto interessante molto inusuale e che secondo me è molto riuscito questo è il mio parere però insomma questo è il contesto immaginiamoci quindi una società dove la Repubblica è l'elemento fondante della società e che la cosa di cui tutti hanno più paura è il colpo di stato e quindi la presa al potere di un tiranno o comunque di una persona singola e noi lo conosciamo molto bene questo tipo di contesto nel nostro paese in più anche il sistema magico la cosmologia e tantissimi elementi che fanno parte degli elementi fantastici di Nevernight dipendono proprio dal fatto che a Itreia cioè nel mondo in cui tutto ciò si svolge non esiste la notte si chiama proprio Nevernight ovvero Illuminotti in italiano perché ci sono tre soli che si alternano nel cielo e che non fanno mai calare il buio e quindi c'è proprio questo effetto che si chiama Illuminotti ovvero sono anche nelle ore che noi identifichiamo come la notte sono sempre comunque luminose e c'è solo un unico momento dove c'è un eclissi di questi tre soli che avviene ogni due anni quindi i tre soli si sovrappongono e riesce ad esserci un periodo di buio che viene chiamato il vero buio e questo è l'unico momento dove c'è una notte effettiva nel nostro mondo quindi insomma è l'unico momento in cui Itreia vede il vero buio come capite secondo me già da qui stiamo descrivendo un mondo che ha delle componenti complesse non impossibili da recepire però insomma c'è un setting molto definito cioè un mondo che è creato seguendo questo tipo di certezze altra cosa la città di Godsgrave dove diciamo la maggior parte degli avvenimenti accade ha una struttura quasi che richiama lo scheletro umano ci sono le costole ha una sorta di struttura molto complessa e anche questo è un elemento importante quindi diciamo che sicuramente tutto ciò che noi andremo a incrociare ha del senso ha un... tutto è legato al concepimento di questo mondo che poi capiremo molto bene secondo me solo nel terzo detto ciò che cosa racconta Godsgrave? noi conosciamo Mia Corvere che è una ragazza di una famiglia molto potente all'interno di Godsgrave ovvero i Corvere che però è stata strappata dalla sua famiglia in quanto il padre è stato pubblicamente impiccato in piazza come traditore della repubblica e la madre è stata rinchiusa insieme al fratellino Mia viene presa in custodia da Mercurio che è uno dei personaggi chiave di questo romanzo che la istruirà nell'arte del combattimento e la renderà una guerriera vera e propria in fondo Mia sogna solo la vendetta e cerca vendetta contro coloro che hanno ucciso la propria famiglia il padre era stato ucciso perché aveva cercato di rovesciare e ribaltare con un colpo di stato la repubblica e per questo che è molto importante la struttura politica all'interno della città di Godsgrave e Mia che ha sempre visto il padre e la propria famiglia come i più giusti non riesce ad accettare che sia stato fatto questo da uomini molto corrotti alla propria famiglia e inizia il suo percorso perché nonostante sia diventata una brava assassina una brava guerriera grazie a Mercurio si rende conto di non essere abbastanza è molto giovane e può imparare di più può essere un'arma molto più letale per questo cerca di entrare nella chiesa rossa ovvero una scuola dove insegnano ad alcuni eletti a diventare i più grandi assassini che la repubblica conosce in nome della signora dell'omicidio benedetto ovvero questa divinità dimenticata della notte che era dedita al culto proprio del sangue dell'omicidio e del sacrificio e niente quindi noi seguiremo le avventure di Mia che tenterà di diventare un'assassina e tenterà di entrare nella red church cioè nella chiesa rossa anche se non sarà sicuramente un compito facile e noi assistiamo e già lo sappiamo dal primo libro che quelle che noi andremo a leggere saranno le cronache della vita di Mia della vita del percorso ma anche della morte di Mia questo viene detto nella prima pagina quindi chiunque pensa che non leggeremo la morte di Mia ha sbagliato ma visto che io odio parlare della trame secondo me tutto ciò che va oltre a quello che vi ho detto è spoiler parliamo delle cose interessanti innanzitutto come vi ho detto già prima non è un libro per tutti proprio perché i primi tre punti secondo me lo rendono già molto escludente non si può pensare che tutti amino la violenza non si può pensare che tutti amino i massacri e il sangue lanciato gratuitamente non tutti sopportano bene le volgarità però è così e quindi niente quindi parliamo dello stile lo stile di Jay Kristoff tradotto secondo me è tradotto molto bene c'è una traduzione secondo me molto alta molto valida allora lo stile di Jay Kristoff è uno stile molto complesso è uno stile molto barocco estremo a volte e sicuramente è uno stile ricchissimo non è uno stile che si lesina assolutamente l'aggiunta di un qualcosa in più l'eccessività è uno stile assolutamente sopra le righe utilizza il linguaggio estremamente volgare che poi è tutto giustificato soprattutto nei dialoghi dei personaggi proprio perché non poteva raccontare e secondo me è giustissimo ciò che lui dice di assassini quindi lo stile è uno stile che sicuramente non è per tutti perché è uno stile esagerato è uno stile che si serve di tantissime metafore che ha bisogno chiaramente di utilizzare le volgarità proprio perché scende all'altezza dei suoi personaggi sono personaggi che non hanno il mignolino alzato e assolutamente non possono essere nobili in quello che dicono e in quello che fanno e per questo secondo me è uno stile molto riuscito il problema fondamentale che questo sicuramente è qualcosa che ad esempio a me ha conquistato ma a molti lo renderà antipatico è l'ironia dell'autore l'autore utilizza un'ironia assolutamente caustica molto cupa e super nera per alcuni versi perché chiaramente sta parlando di qualcosa di un certo tipo soprattutto deve contestualizzare anche questa ironia che anche in questo caso è barocca è eccessiva è assolutamente tagliente quindi questa è una cosa che o vi piace perché da un lato è molto romanzesco come tipo di ironia è molto teatrale anche come ironia ed è allo stesso tempo estremamente tagliente quindi è un tipo di impostazione che può non piacere oppure come nel mio caso piacervi tantissimo questo è a vostra discrezione altro punto secondo me che va notato lo stile è lasciato in mano al narratore che è una voce narrante ma allo stesso tempo è un personaggio inserito all'interno del libro e questo non è una cosa da poco perché? perché il narratore è un personaggio che è sicuramente sopra le righe e quindi è per questo che anche lo stile segue questo personaggio che chiaramente è una riflessione di se stesso e soprattutto ha dei sentimenti molto molto forti ed evidenti nei confronti di Mia chiaramente il narratore si rivolge al lettore spessissimo e questa è una cosa che può piacere o non piacere ma è quasi necessario direi e che chiaramente è molto carico e in questo caso il nostro narratore ci accompagna nel corso degli eventi e lo capirete solo a un certo punto andando avanti non sempre però lo stile ha un ritmo sostenuto quindi la narrazione a mio parere è abbastanza scostante a livello di ritmo perché? per dei motivi molto chiari il primo deve costruire il mondo e chiaramente si prende tutto il tempo per farlo chiaramente adotta il meno possibile gli spiegoni non è sicuramente uno stile che si sofferma nel raccontare e mai mostrare ma cerca di raccontare ma si prende il suo tempo per riuscire attraverso i personaggi e ciò che vediamo i viaggi che compiamo all'interno della città e non solo per raccontarci questo mondo e questo contesto e sicuramente spesso deve rallentare perché non può farlo con gli spiegoni e quindi deve prendersi il suo tempo altra cosa che va notata e che sicuramente a volte spezza un po' il ritmo è che tutta la narrazione passa attraverso delle note a pie pagina io personalmente a volte le ho apprezzate moltissimo a volte le ho odiate perché mi interrompevano proprio l'attenzione mi distraevano continuamente anche se queste note sono una delle parti più divertenti all'interno della serie per una serie di motivi il primo spesso le note fanno riferimento a degli avvenimenti dei personaggi o sono spiegazioni abbastanza utili al lettore però sempre fatte con grandissima ironia però possiamo anche trovare in realtà note che non hanno nulla a che vedere con la narrazione che spiegano cose inutili solo per il gusto di farlo per il gusto di potersi prendere mezza pagina e raccontarvi un qualcosa del mondo di Treia a volte sono molto utili e ci aiutano a capire e a sviluppare ulteriormente il sistema in cui noi ci andiamo ad inserire a volte sono del tutto inutili e sono lì solo per far ridere il lettore in questo caso a mio parere almeno per me ripeto a volte mi sono state molto utili a volte le ho saltate a pie pari in God's Grave a un certo punto penso da un terzo in poi ho smesso di leggerle perché mi interrompevano però è una delle cose più particolari che ci sono all'interno di questo stile perché si prende proprio il suo tempo il narratore è molto insistente il narratore è super presente ed è chiaramente anche invadente perché è un po' la superstar insieme a mia e questa è una cosa che a me personalmente è piaciuta molto so che non può piacere a tutti e quindi questo sarà una delle grandi discriminanti che potrebbero farvi apprezzare o odiare questo stile io devo dirvi che quando ho letto e qua mi inserisco quando ho letto Nevernight l'ho iniziato una prima volta l'ho abbandonato perché richiedeva un'attenzione molto alta poi l'ho ricominciato l'ho riabbandonato perché lo stavo odiando non stavo capendo niente eccetera eccetera la terza volta sono rimasta molto fulminata invece l'ho letto tutto e avevo più tempo avevo molta più attenzione ci ho dedicato abbastanza tempo quindi prendetevi il tempo dovete avere un certo tipo di attenzione per leggerlo perché sicuramente tutto ciò che è scritto dentro questa storia ogni singola riga ogni singola scena non sono casuali non sono buttate lì per riempire delle pagine tutta la narrazione è molto densa quindi se vedete delle azioni che inizialmente non capite questo secondo me succederà molto in God's Grave cioè in i grandi giochi cioè nel secondo libro fino a una certa metà è difficile proprio capire dove stiamo andando poi abbiamo la grande illuminazione infatti è uno stile incredibile secondo me perché è imprevedibile è qualcosa che ti crea una serie di colpi di scena davvero molto inaspettati riesce a costruire un sistema di sottotrame molto sottili in maniera eccellente ed è qui che J. Christophe è un grande autore secondo me perché riesce a tessere una trama molto fitta senza venire percepita e senza sentirsi troppo oltre che ad avere uno stile che a me personalmente piace perché almeno lo trovo originale anche molto personale secondo me personale è qualcosa di cui noi abbiamo bisogno in questo momento nel fantasy perché troppo spesso abbiamo a che fare con copie di copie di copie o copie in colla di altri invece a me piace molto questo tipo di stile altri lo potrebbero odiare totalmente parto invece sulla nota che secondo me fa gioie e dolori della serie ovvero i personaggi i personaggi chiaramente sono numerosi quelli che noi incontriamo all'interno del libro sono tanti ma la protagonista indiscussa e unica rimane Mia Corvere Mia è un personaggio che a me è piaciuto moltissimo per una serie di motivi intanto perché è il mio cosplay cioè lei è il mio cosplay non io il suo ma perché no vabbè a parte le gag brutte ma perché è un personaggio che prende lo stereotipo dello strong female character e lo butta nel cesso non gliene frega niente di fare quella forte e basta quella che non ha compassione per niente nessuno anzi è un personaggio che si costruisce molto lentamente questo a me piace molto e nell'arco di tre libri noi assistiamo a tutta la sua evoluzione Mia è un personaggio che chiaramente è assettata di vendette è acceccata dalla vendetta e quindi vuole uccidere vuole ammazzare chiunque abbia sterminato la propria famiglia e la vendetta è l'unica cosa che apparentemente la muove ma perché ha un grandissimo senso della famiglia e lei vuole ricostruire anche la sua famiglia sta cercando in tutti i modi di trovare il modo di avere una vera famiglia e in questo Mia mostra però tutte le sue contraddizioni Mia gira sempre con Messer Cortese cioè Mister Kindly che è un gatto che ha la forma di un gatto ma in realtà è un'ombra è fumoso è inafferrabile che è un po' la voce della sua coscienza togliendo è un po' è la voce della sua coscienza è un demone che la segue costantemente e che si nutre delle sue paure ed evidentemente lei di paure ne ha tante perché dal momento in cui Kindly l'ha trovata in cui Cortese l'ha trovata non l'ha mai più abbandonata e grazie a Messer Cortese Mia riesce a rimanere semilucida perché le sue paure vengono inghiottite non la schiacciano più e questo secondo me è l'elemento fondamentale anche per capire il senso di un personaggio come Mia perché è un personaggio che gioca tutta se stessa attorno alla paura al rapporto con la paura e Messer Cortese è l'altro personaggio che è personalmente il mio preferito perché è un po' una voce fuori dal coro si prende il suo tempo per dire le battute nei momenti meno opportuni è fastidiosissimo è pungentissimo e per questo per me è un personaggio molto riuscito ma soprattutto affezionato a Mia e questo lo capiamo tantissimo durante la lettura proprio il fatto che si nutra delle sue paure cerchi di alleviarle il dolore ma a volte si rende conto del conflitto che crea perché non avere più paura rende Mia sempre più ingestibile rende Mia sempre meno spaventata l'idea di compiere alcune azioni mentre dovrebbe avere alcune remore e questo è un po' il gioco su cui tutta la narrazione permea poi come vi avevo già accennato prima c'è Mercurio che è colui che accoglie Mia e la cresce come una figlia infatti per lui è una figlia vera e propria e che chiaramente vuole un bene dell'anima mia e che si occuperà di lei e cercherà di aiutarla Mercurio è molto importante perché lui era un accolito era una parte importante della chiesa rossa e quindi conosce bene come diventare una lama cioè un vero e proprio assassino per conto della chiesa se non cado da qualche parte e questo insomma lo rende un personaggio molto chiave e anche per tante cose che sono spoiler quindi io non vi dirò in questa parte del video quindi noi abbiamo insomma questo trio iniziale che incontriamo dopodiché abbiamo tutti i personaggi che fanno parte della chiesa rossa Trick Ashlyn Adonai sua sorella Spider Killer che credo sia l'ammazzaragni in italiano mi ricordo sì e una serie molto molto ampia di Drusilla insomma ci sono un sacco di personaggi che secondo me sono interessanti detto ciò però a mio parere quindi potete di sentire ma secondo me è molto evidente nel corso della serie a parte Mia e Messer Cortese tutti gli altri personaggi sono molto poco indagati Mercurio fondamentalmente funzionale quindi va anche bene che sia così non è necessario che sia estremamente approfondito capiamo alcune cose ed è giusto anche che sia funzionale tutti gli altri personaggi che noi vedremo moltissimo all'interno della narrazione invece sono estremamente estremamente macchiettistici secondo me e questo è uno dei principali difetti di questa serie tanto che il romance per me è molto poco giustificato ed è superfluo io personalmente se non avessi avuto il romance all'interno di questa serie sarei stata felicissima non perché non ci stavano anzi secondo me la scena le scene di sesso fanno parte proprio anche del modo in cui c'è un certo approccio alla vita un certo approccio sprezzante proprio al modo di vedere le cose e per me è giustissimo il problema è quando si crea il romance che secondo me è molto ingiustificato non riesco a capire i sentimenti che a un certo punto spuntano questo per me è proprio il problema fondamentale del libro tanto che più si va avanti soprattutto nel terzo continuavo a fregarmene proprio non capire questo strettissimo legame che si viene a creare tra più di un personaggio detto ciò però se voi non siete come me particolarmente interessati a questa parte e fondamentalmente non è la parte prevalente per fortuna del romanzo anzi è una parte molto secondaria leggerete tutto con grande piacere invece per chi invece è molto fan del romance secondo me queste non sono relazioni assolutamente memorabili personalmente parlando la vedo così poi so che invece sono coppie molto amate così io non non so sarò io col cuore di ghiaccio però fondamentalmente non ci sono abbastanza significativi scambi di non lo so non riesco a sopportare questo romance mi sembra molto anacquato detto ciò invece il problema riporta ai personaggi i personaggi secondari soprattutto Trick Ashlyn moltissimi che fanno parte della chiesa rossa sono molto lasciati a se stessi anche perché sono volutamente funzionali a mia quindi creano con mia questa cosa e distraggono il personaggio e secondo me invece dovevano avere delle identità un po' più definite anche per loro stessi indipendentemente dalla relazione con mia relazione intendo rapporto non per forza relazione sentimentale e quindi per me è la cosa meno riuscita però è vero anche che il peso di questi personaggi secondari cioè è molto molto marginale rispetto a ciò che noi invece vogliamo sapere cioè mia infatti mia ritorno qui perché secondo me è l'unica cosa interessante della questione personaggi insieme a Messer Cortese proprio ci fa ragionare anche sul senso del desiderio sul senso della vendetta spietata e su come questa sia spesso rappresentata come molto cieca e senza dei secondi fini e in questo caso noi però la colleghiamo al tema principale che è quello della paura e come la paura la governi la blocchi e la faccia sentire più debole e le impedisca di portare a termine i propri obiettivi ma in realtà noi capiamo che la paura è forse la cosa che la salverà la paura infatti è un tema che ricorre spessissimo in maniera molto sottile e delicata e io ho apprezzato moltissimo mi sono rivista tantissimo in alcune delle riflessioni che vengono tutte consegnate in mano a Messer Cortese tanto che secondo me è uno dei personaggi più riusciti proprio perché crea quel legame con Mia così vero che effettivamente sposta la parte emotiva verso di lui non è così per tutti per me è stato assolutamente così e anzi come lui continuamente la metta di fronte ai propri limiti come lui continuamente metta in dubbio le sue scelte perché Mia senza la parte di paura quindi quando non riesce più neanche a percepire il pericolo è troppo sfrontata e farebbe cose che chiaramente chiunque sarebbe limitato nel fare però Mia ha anche una grandissima coscienza che è qualcosa che invece tantissimi altri accoliti della chiesa rossa non hanno e Mia infatti si dimostra sempre molto umana perché ha dei valori che non entropassa mai che sono derivanti dalla propria famiglia un attaccamento fortissimo alla famiglia infatti lei vuole ricreare ricomporre la famiglia come la chiama lei e questo per lei è un valore imprescindibile e questo secondo me è una delle cose più forti una delle tematiche più forti all'interno del libro che cos'è la famiglia che cosa la rappresenta e cosa siamo disposti a fare soprattutto siamo disposti anche a affrontare noi stessi ai nostri limiti questo fondamentalmente secondo me è anche molto di quello su cui gioca Nevernight è una storia che ha moltissimo a che fare con colpi di scene trame politiche e questo è molto forte molto vivido soprattutto più si va avanti più capiamo che la società è in marcia fino proprio alle sue radici e questo è uno dei motivi per cui dobbiamo in qualche modo stare al fianco di mia e questo la rende una grande serie io ho dato quattro stelline sia a mai dimenticare sia ai grandi giochi e ho dato cinque stelline al finale anche se il finale non se le merita assolutamente cinque stelline ma la narrazione di Dark Zone è veramente incredibile succedono moltissime cose e ognuna più sconvolgente di quella appena letta prima e quindi per me è stato trascinante come poche cose al mondo lì il ritmo accelera perché dobbiamo vedere tantissime cose e quindi insomma se il primo continuava a lasciarmi il dubbio perché il dubbio rimane sempre sul personaggio secondario e il secondo ha avuto esattamente lo stesso problema cioè io volevo vedere una crescita nei personaggi secondari a un certo punto mi sono rassegnata perché superando quello in Dark Dawn ho avuto tutto ciò che chiedevo quasi tutto ciò che chiedevo e anzi adesso faccio un piccolo ragionamento su Dark Dawn che chi non ha letto ancora i libri spero non guardi perché saranno mega spoiler e cosa ne penso del finale alla fine comunque il mio pensiero sulla serie è assolutamente positivo e anzi sono felicissima che sia arrivata una serie del genere in Italia perché è valida io la consiglierò sempre è una delle serie più belle che ho letto negli ultimi anni perché è molto avvincente dei personaggi molto fighi scusate sto facendo l'asina come non mai e soprattutto mi piace che sia così fuori dalle righe fuori contesto e non banale quindi insomma la mia opinione è assolutamente positiva se io devo dare un voto alla serie gli do 4 e mezzo perché è una serie molto molto avvincente 4 e mezzo su 5 ovviamente e quindi io ve la consiglio chiaramente però spero di avervi spiegato come è fatta in modo che voi possiate capire se è qualcosa che vi piace o se è qualcosa che non fa per voi quindi questa è un po' la mia guida alla serie se non avete letto dark zone direi che ci vediamo al prossimo video ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate se avete intenzione di acquistarlo e ora inizia la parte spoiler bene ora chiunque non abbia letto dark zone non ascolti queste parole è l'ultimo avvertimento poi sono cazzi vostri allora partiamo da questo finale io devo dire non parlerò di cose concrete né di cose diciamo logiche ma vi dirò che cosa ho pensato di questo finale il finale secondo me è azzeccato per quasi tutti i suoi punti tranne proprio per il finale e vi spiego perché nel senso che mi è piaciuta moltissimo c'è un'azione continua dinamica proprio estremamente tumultuosa imprevedibile e questo per me è stato pazzesco si cambia continuamente prospettiva si va da un punto all'altro sai che dovresti fare una cosa ma poi mia non la fai quindi ok è trascinante ed è bellissimo secondo me sono rimasta sconvolta per tutta la lettura e quindi questo mi è piaciuto io mi aspetto questo da un libro mi aspetto assolutamente questo mi è piaciuto moltissimo anche la crisi profonda che vive mia in questo ultimo romanzo perché per me è stato il punto più alto di tutto proprio tutta la trilogia il suo litigio con Mr. Kindly perché è l'unico momento in cui anche a parlarne ve lo giuro mi è venuto il magone perché Mr. Kindly le stava dicendo forse le cose più vere che lei si sia mai sentita dire e io mi ci rivedo moltissimo in mia in quel momento la me 15enne la me 16enne era esattamente allo stesso modo non voler ascoltare certe cose perché sai che sono vere ma ti fanno anche molto male allo stesso tempo non volere confrontarsi con la più grossa difficoltà che si affronta ma essere convinti che le proprie decisioni il proprio modo di fare è quello giusto e anche quando la tua coscienza colui che ti è stato di fianco più a lungo possibile più a lungo di chiunque altro ti mette di fronte a questo e tu non lo ascolti lo rifiuti e anzi ti separi da lui per me è stato straziante proprio perché mia da lì in poi si rende conto quanto la mancanza di Messer Cortese sia pesante sia fondamentale e giuro lì proprio sono stata male perché immaginavo me stessa 15 anni fa e so che io avrei fatto esattamente la stessa cosa e questo mi ha fatto male anche a me e quindi niente è stato un momento molto alto il più bello secondo me in tutta la trilogia il più cioè lì ho visto dell'emotività molto vera molto toccante e in quello io mi sono concentrata soprattutto come chiave anche del romanzo perché Messer Cortese proprio le dice cose che secondo me lei aveva bisogno di sentirsi dire anche se lei non voleva sentirsele dire bellissimo cioè quella è proprio la chiave di tutto il romanzo secondo me mio parere è anche uno degli sbrogli degli snodi davvero molto forti dal punto di vista emotivo e tematico all'interno della serie bellissimo continuo a non provare invece assolutamente nulla e a non capire tutto questo affetto per Ashlyn io purtroppo non sono né team Trick né team Ashly io sono mia sta da sola perché non ha senso che tu sia così trascinata mi sembrava proprio forzatissimo e forse è un mio problema ma boh io sarei stata benissimo con una mia non attaccata a qualcuno poi capisco che c'era bisogno di un legame amoroso perché era forza cosa bla 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 sì però secondo me era molto invece più forte quello che si viene a creare con Yonnen col fratello perché è lì che noi puntiamo è alla famiglia ed è vero che lei si deve costruire la sua famiglia però io non lo so avrei preferito che ci concentrassimo lì anche se è chiaro che lei deve comporre la sua famiglia e la sua famiglia non può essere solo il fratello ma deve essere più ampia però anche poi il ritorno di Trick questo battibecco continuo questo Trick Ashlyn Trick Ashlyn perché in fondo non lo so ero molto molto combattuta io non sono una fan di queste coppie per nulla e non mi piacciono e non capisco tutta questa tragedia gente che piangeva per Ashlyn e io finalmente ok poi tanto lo sapevamo che sarebbe tornata era proprio chiamatissimo detto ciò invece cosa mi ha un po' deluso di questo finale è proprio stato il finale perché la cosa che non ho amato particolarmente è il fatto che è stato invece l'unica cosa prevedibile nel senso che per me ci sta e anzi è giusto che tu dici che morirà all'inizio del libro e quindi alla fine tu la fai morire perfetto lo apprezzo lo stimo non fai delle non fai delle capriole salti pirouette pur di non farlo avrei sperato che fosse un pelo meno prevedibile perché leggere gli ultimi capitoli era davvero troppo telefonato chiaramente perché lo sapevi cosa doveva succedere c'era la scena dove sapevi che sarebbe successo questo e quello ecco lì avrei chiesto un po' più di imprevedibilità della cosa proprio come era stato per tutto il resto della narrazione invece che ripeto secondo me è uno dei punti forti proprio di Christophe che riesce a tessere trame imprevedibili e questo è il punto forte di tutta Nevernight e quindi insomma è un po' quello mi ha deluso come un po' sta roba di Ashlyn perché fregava niente assolutamente però invece le dinamiche la narrazione il passo che proprio va spedito è continuo il rapporto con Messer Cortese è ve lo giuro io e anche il mio povero cuore nero e insensibile era assolutamente stremato alla fine della loro litigata e quando si riabbracciano quando si ritrovano è stato molto molto più intenso che la morte di Ashlyn a mio parere che la morte di qualsiasi altro personaggio e anche il legame con Yonnan secondo me è stato molto prezioso all'interno di questo libro il fatto che si odiassero proprio a morte e invece piano piano il fatto che cercasse in tutti i modi di costruirlo la determinazione di Mia si è vista soprattutto lì secondo me non tanto per la causa però nel volere cercare in tutti i modi una strada per ricomporre la propria famiglia e niente quindi per me Dark Dawn è comunque stato ottimo scena finale va bene fanservice quello ci sta ci sta a me non me fregava niente assolutamente e poi mi è piaciuto anche Mercurio ciò che affronta Mercurio ciò che viene ciò che succede all'interno della montagna è stato interessante anche Mercurio proprio il suo modo di agire di fare il fatto che deve scrivere il ritrovamento dei libri mi è piaciuto mi è piaciuto molto questo finale secondo me è un finale dignitosissimo e anzi è ciò che si meritava a Mia e ciò che io speravo di ottenere in maniera magari un po' più imprevedibile quello non lo nego quindi insomma direi che ciò che dovevo dire su Dark Dawn fondamentalmente in aggiunta a ciò che ho detto prima è questo mi è piaciuto moltissimo come di nuovo si sia ragionato sulla paura e si abbia avuto in maniera molto limpida e chiara e anzi mi è piaciuto molto come si abbia avuto in maniera molto limpida e chiara un sunto un po' di tutto quello che noi abbiamo affrontato insieme a Mia in questa serie proprio legato alla paura e quindi niente io spero di avervi detto tutto quello che penso su Nevernight e avervi fornito gli strumenti utili magari per capire se può essere una serie che vi può piacere o non vi può piacere e se volete sclerare insieme a me su Dark Dawn mi raccomando e anche su Godsgrave mi raccomando scrivete sempre spoiler nei commenti e ci sentiamo giù spero invece di avervi incuriositi se non avete ancora letto il libro e niente io direi che ci vediamo al prossimo video ciao ciao